Ciao Alessandro, come stai? Ciao Mauro, benvenuto al campo volo di Reggio Emilia. Come stai? Sei carico? Alla grande! Ottimo! Hai scelto tu di fare questa esperienza? Super esperienza, bravo! Allora sarai super super carico! Senti, te l'ho spiegato tutto? Perfetto! Tutto chiaro? Ok, mi raccomando se hai dubbi chiedi eh! Non aver problemi! Allora io sarò davanti a te per tutto il tempo della caduta libera! Video, foto, guardami più che puoi! Va bene? Allora ti lascio con Gabri che finisce di dragarti e noi ci vediamo tra poco! Ciao! Buon calma Mauro! Vieni qui davanti a Gabriene! Ciao! Ciao! Perfetto, bellissimo Gabri È un gioco da ragazzi no? È bellissimo Vai facciamolo l'altro Un altro giro? Sì Via Ci parte Andiamo a destra Madonna che perfezione Grazie Gabri, bellissimo Bella Bravo Bravo Mauro, ti sei divertito? Un sacco Un sacco, vero? Abbiamo visto, abbiamo visto Bravo, sei stato davvero bravo Un sacco